Le corde le abbiamo? Mi sembra che bastino. Non sono più di 300 metri. E quanto tempo ci vuole? Dipende dal meno veloce di noi. Io me la cavo abbastanza bene. Sin da bambina facevo scalate. E allora il più lento sono io. Io più alto del mio cavallo non sono mai salito. Quanto ci vuole? Un paio d'ore, forse un po' di più con le provviste. Gli indiani seguiranno il canyon, questo è certo. Se guadagnerebbero 5 o 6 ore, scialaco. Cosa stiamo aspettando? D'accordo. Scarichiamo i cavalli e lasciamoli andare. E allora, il primo io. Sir Charles, lei chiuderà la cordata se non le dispiace. Gli uomini porteranno le provviste. Le signore forse dovranno alzarsi. Va bene così? Calen? È lei che lo deve dire. Giusto. Allora andiamo.